Schio e lotta aperta alle baby gang. La delinquenza giovanile è una delle piaghe della città e la guerra tra bande di giovani immigrati che spadroneggiano nell'Alto Vicentino è diventata un'emergenza da risolvere quanto prima. Serve il pugno di ferro. È così che un magrebino è stato raggiunto da un decreto di espulsione. Di un altro marocchino ventenne invece si sono perse le tracce. Dopo essere stato arrestato a marzo a Zulliano per rapina e lesioni nei confronti di tre sedicenni, a luglio aveva sferrato una coltellata a una mano a uno scledense che passeggiava in centro storico. Ora è sparito sulle sue tracce i carabinieri e la polizia locale. Il giudice delle indagini preliminari di Vicenza ha firmato nei suoi confronti un'ordinanza di custodia in carcere.